Massimo Antonio Boldi è un attore, comico, produttore cinematografico, cabarettista e musicista italiano, conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti. La leader di Fratelli d'Italia per celebrare la festa dell'Assunzione ha pubblicato uno scatto in piscina mentre gioca in acqua con sua figlia. Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti, il messaggio del Presidente del Consiglio. Tra i tanti commenti, positivi e negativi, balza all'occhio quello di Massimo Boldi, celebre attore comico, che, con un messaggio un tantino sgrammaticato, ha voluto ricambiare gli auguri di Meloni, sottolineando anche il buon lavoro svolto finora dal suo governo. Buon Ferragosto ben amato Giorgia, nostro Presidente del Consiglio della Repubblica sei sempre più forte hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti e continuare a alzare dalla tua parte. Ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni in persona. La Premier ha pubblicato un messaggio di solidarietà nei confronti dell'attore 79enne, è triste vedere com'è, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi e gli mando un grande abbraccio.